o sono io che non vedo bene non c'è buio per niente da io vedo buio allora buongiorno oggi ne abbiamo 9 avosto dove le vendita 2022 buongiorno le faccio partecipe della mia spesa di oggi al despart di palau allora un anguria verde eccola qua 1 e 49 al chilo ha pesato un chilo e 560 grammi allora 2 euro e 32 ecco ci siamo latte d'arborea 1 e 79 ma mi era sembrato di aver letto 1 e 75 sono due bottiglie ecco 1 e 2 poi c'è formaggio canna parana questo a 16 se non grattugiato a 16 90 se non è grattugiato a pezzo cioè ha pesato fammi vedere un minuto peso netto due 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 170 due gran 0 come questo che non c'è fretta 16 90 ha pesato 0 100 0,272 kg lo vedo da qua cioè se prezzo 4 4,60 centesimi e adesso brodo formato da nur a granurale granurale pol polo di polo 2 euro 2,39 centesimi prosciutto fiorucci cotto allora questo ha pesato è a 20 e 90 comunque il carruccio è ha pesato 90 grammi ogni euro e 88 centesimi qui abbiamo cresciuto crudo crudo di funne quindi è sardo a 28 e 50 abbastanza caro 100 grammi 2 euro 2,85 centesimi trezzemolo un po malconcio trezzemolo 79 centesimi baserico basilico 1 euro 59 ora li metto in acqua tutte e due perché così si mantengono meglio basta basta barilla pasta barilla puntini questo si farà amministra con granulare di pollo quando sarà questa è un euro 19 e quella lì eccola setacciata si buonissima mi piace un euro e 40 un euro e 85 centesimi poi per abate abate questi sono al chilo 2 euro e 69 hanno pesato 550 grammi quindi un euro e 48 centesimi poi pasta barilla eccola questa questa non l'avevo più visto il commercio la prendevano a casa mia quando ero bambina faceva certi sugli mamma questa è regina reginette reginette se allora un euro e 49 e mezzo chilo merendine fiesta vuole vedere bene inquadrale bene eccole qua fiesta classica buone da morire mi piace sono all'arancio si senza grassi pare che siano così dicono sarà ma idrogenati da sempre cosa vuol dire non ne ho idea fiesta classico comunque c'è l'arancia qui e quindi sono molto buono abbiamo chiuso a prendere ok il prezzo complessivo 3 euro e 29 3 euro e 29 si totale della spesa 30 euro virgola 85 centesimi si ok bene vuoi salutare poi saldo punti io ne avevo quasi mille passati e adesso mi mettono saldo punti 00 quindi niente non ce n'è più questa dove sono andata a finire comunque non mi importa questa cosa voglio augurare una buona estate a tutti buona vacanza buone vacanze buona permanenza che non va in vacanza se la meritano anche di più ce lo meritiamo anche di più e certo sopportiamo questo caldo io e il 79esimo anno che lo sopporto quindi sono ancora viva e vegeta quindi stringiamo i denti e fiducia nel signore buongiorno a tutti arrivederci ciao ciao ragazze a presto un bacione e buon pranzo ciao